Questo è il governo per cui darò tutto il mio sangue, la mia salute e il mio impegno, ma non è quello per cui ho lavorato. Il mio governo è di centro-sinistra. Mentre da Palazzo Grazioli piovono minacce sulla sorte dell'esecutivo dalla festa democratica di Genova, Enrico Letta parte al contrattacco, difende il suo governo. Questi quattro mesi non sono stati solo di compromessi e rinvii, rivendica, e le larghe intese, causate però da una situazione di emergenza. Questa legge elettorale, dice, crea un tripolarismo che impedisce un vincitore. Se non lo cambiamo, a novembre saremo costretti a rifare un governo con le larghe intese. Dal palco del capoluogo Ligure, il premier, plaude alla scelta di Napolitano di nominare senatori a vita il maestro Claudio Abbado, la ricercatrice Elena Cattaneo, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Una scelta che apre il cuore e la definisce, ma dal PDL, da dove trapela il sospetto che Napolitano pensi a blindare un'eventuale Letta bis in caso di caduta del governo, Santanchè e Capezzone lamentano la mancanza dal lotto di Silvio Berlusconi, a loro avviso la persona con più titoli e meriti. La risposta di Letta alle illazioni è decisa, ci sono formiche che non possono neanche parlare di fronte a quel gigante di Napolitano. Ma a tenere banco in questi giorni è anche la questione IMU. Letta difende la scelta di abolire una tassa definita iniqua e non progressiva, sostituendola dal prossimo anno con la service tax, che sostiene sarà più bassa e non sarà caricata sugli affittuari contro i proprietari. Ma intanto bisognerà trovare le coperture per mandare in soffitta il saldo di dicembre, mentre su quelle indicate dal decreto varato mercoledì scorso dal Consiglio dei Ministri è già arrivato un colpo di scena. Il governo infatti ha smentito l'ipotesi di una nuova tassazione IRPEF su 6 milioni e mezzo di seconde case sfitte. L'ipotesi riferita spiega un comunicato di Palazzo Chigi a bozze circolate ma che non faranno parte del provvedimento. In realtà quella tassazione extra sulle seconde case doveva servire a trovare il miliardo necessario a finanziare la deducibilità del 50% di quanto pagato di IMU dalle aziende. Ora saltata la copertura su pressione soprattutto del PDL e saltata anche la misura se ne riparlerà con la legge di stabilità. Grazie.